Gentile professoressa, gentile professore, la ringrazio per aver accettato la proposta che il Ministero le ha formulato ieri. Benvenuta nella comunità delle donne e gli uomini che lavorano a tempo indeterminato per lo Stato. Le faccio i migliori auguri a nome mio personale e a nome di tutto il Governo. Per anni le istituzioni hanno permesso che si creasse un incistificato e odioso precariato tra i docenti. Così inizia la lunga lettera del Capo del Governo Matteo Renzi dopo l'apertura della fase C. Con la buona scuola abbiamo innanzitutto messo più soldi nell'educazione, più soldi per i professori, più professori per i nostri figli contro l'insopportabile filosofia delle classi in pollaio. In un altro passo della lettera Renzi fa gli auguri a Ineo immessi il ruolo. Abbiamo fatto tesoro delle tante critiche ricevute, ma abbiamo mantenuto la parola data. Lei adesso è a tutti gli effetti un'insegnante a tempo indeterminato. Sono contenta di essere entrata di ruolo dopo 13 anni di precariato. Da un lato sono contenta di andare a lavorare in provincia di Modena, ma dall'altro no, perché devo lasciare la mia terra e i miei figli, uno di 13 anni e l'altro di due anni e mezzo. Durante gli anni del mio precariato, quando venivo assunta, sapevo cosa andare a insegnare, italiano, matematica, ambito antropologico. Oggi che faccio parte dell'organico di potenziamento, non so cosa mi aspetta. Secondo me questo metodo di reclutamento attivato dalla legge 107 non è il metodo più giusto, più adeguato per poter assumere gli insegnanti, perché molti insegnanti vengono assunti con un punteggio inferiore nella propria provincia, mentre altri con un punteggio maggiore vengono sballottati al nord. Decantare le missioni in ruolo significa fare propaganda e mistificare la realtà perché il piano straordinario di assunzione rappresenta soltanto una parte di una riforma che invece è fortemente deleteria per la scuola italiana, afferma il sindacato Gilde in un comunicato a firma del suo coordinatore Rino Di Meglio. Le norme peggiori della cosiddetta buona scuola, come la chiamata diretta degli insegnanti da parte dei dirigenti, entreranno in vigore dal prossimo anno scolastico.